All'incirca si stima che un 80% dei commerci, delle merci che viaggiano, comunque passino attraverso il mare, per cui è importante che sia per quanto riguarda il commercio, ma sia anche per quanto riguarda dal punto di vista alimentare, non dimentichiamo tutto ciò che ha a che fare con il pesce, tutta la filiera del pesce che deve essere sempre tutelata e controllata e questo è soprattutto uno dei compiti della Guardia Consigliere, ogni giorno lavoriamo proprio per questo, perché riteniamo sia molto importante.